Una fucilata contro l'ingresso del Parco delle Foreste Casentinesi, questo quanto è successo al valico dei Trefaggi nel comune di San Godenzo, dove alcuni pallini di una cartuccia hanno raggiunto e trafitto il cartello posto sulla soglia. Sembrerebbe essersi formato un rosone di fori, tipico dunque dell'esplosione di un solo colpo. A scoprire l'insegna colpita sono stati i responsabili del parco, che hanno immediatamente denunciato l'episodio e i carabinieri forestali che hanno così dato avvio alle indagini. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. A metà dello scorso dicembre sempre lo stesso cartello era stato vandalizzato. I responsabili del parco in quel caso avevano trovato sull'insegna una scritta con vernice nera «La caccia non è sport, è massacro». L'esterno del parco è infatti un'area in cui la caccia è messa, a differenza dell'interno. Gli ultimi episodi si sono però consumati nell'anello del bordo, una zona piuttosto calda nel confronto tra animalisti e cacciatori. Poco meno di due anni fa invece si era verificato un altro gravissimo atto intimidatorio. Nel febbraio del 2018 il presidente del parco, Luca Santini, ricevette un pacco anonimo con una lettera minatoria e due proiettili. All'interno l'inquietante scritta «Sei uno sbirro, difendere la legge ha un prezzo, sei un uomo morto».